direi che sono le 11 e 33 direi che si può cominciare ogni tanto vabbè prima abbiamo fatto il primo corso eccolo qua ragazzi una bella lezione sulla quarta via femminile di jean le salzman dal suo libro la realtà dell'essere eccolo qua un libro bellissimo e invece oggi ci occuperemo di tarocchi e vangelo terapia bellissimo non vedevo l'ora sono anni che volevo fare questa cosa e sono proprio contento allora intanto per cominciare sapete che mi piace iniziare con un brano del vangelo ho scelto quello del giorno quello del giorno e matteo 10 46 sapete che c'è un vangelo per il giorno dell'anno insomma e ogni volta si trova sempre un riferimento molto bene oggi vi leggo questo e vedremo che rapporto c'è tra il vangelo e tarocchi vi ricordate la premessa che vi ho fatto nella presentazione della settimana scorsa io non mi occupo di cartomancia cioè non giriamo le carte e non è che vi indovino il futuro io non lo faccio voi siete bravissimi non lo faccio fate che indovinare il vostro futuro non ho proprio bisogno di girare nessuna carta quando ci incontriamo dal vivo venite verso di me e il futuro ve lo dico subito proprio non è necessario nessuna carta per capire come come andrete a finire sapete che gesù quando io non sono gesù però nel mio piccolo mi difesa sapete che gesù vedeva la gente arrivare c'è boh tu va bene così tu fai questo tu fai l'altro perché era tutto a posto un certo giorno disse qualcuno di voi mi tradirà ma come fa a sapere come faceva avrà girato le carte avrà fatto l'avangelo terapia immaginate gesù che scrive in fretta o le frasi che dice ma queste mi servono ma che poi domani magari mi vengono in mente e posso organizzare la geoterapia o la lettura di tarocchi io non giro le carte fate benissimo a farlo ma quello che mi voglio insegnare in questo anno di lavoro è con quale spirito girare queste carte un qualche con quale spirito per questo vangelo io sono contentissimo dalla lezione scorsa che abbiamo fatto perché è stata una lezione sull'intuizione e mi sa che tutto l'anno lavoreremo su queste 23 lezioni lavoreremo su questo perché è importante importante questo altrimenti imparate delle cose le leggete da qualche parte ma è sempre copia in colla sapete cos'è copia in colla leggete un libro di qualcuno sui tarocchi poi leggete un altro poi vi fate un'idea poi in base a ciò che conoscete sulle carte poi cercate di arrangiarvi di applicare quello che avete imparato che va benissimo che non ci siano malcomprensioni fate bene però io voglio fare un altro tipo di lavoro cioè un giorno guarderete le nuvole capirete cosa succede ecco io guardo le nuvole e con tutta la mia intuizione capisco che pioverà si comincia con le cose molto piccole molto semplici poi una volta si va sempre nelle cose più complicate allora se volete chiudere gli occhi questo è questo il corso avanzato quindi qui non si scherza ragazzi e vi parlo un po di questo brano il vangelo tratto quindi da marco capitolo 10 versetto 46 ripeto il vangelo del giorno in quel tempo mentre gesù partiva da gerico insieme ai discepoli e a molta folla il figlio di timeo bartimeo cieco sedeva lungo la strada a mendicare costui a sentire che c'era gesù nazareno incominciò a gridare e a dire figlio di davide gesù abbi pietà di me e molti lo sgridavano per farlo tacere ma egli gridava 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 sempre più forte figlio di davide abbi pietà di me allora gesù si fermò e disse chiamatelo qua e chiamarono il cieco dicendogli coraggio alzati ti sta chiamando ed egli gettato via il mantello balzò in piedi e venne da gesù e allora gesù gli disse che cosa vuoi che io ti faccia e il cieco disse a lui maestro fa che io ri abbia la vista e gesù gli disse vai la tua fede ti ha salvato e subito riacquistò la vista e prese a seguirlo per la strada e cosa ci può insegnare questo questo brano a caso oggi così vangelo del giorno e svegliata la mattina io penso che abbiate già questa abitudine ogni tanto aprite il giorno del giorno e dite ma chissà che che cosa mi presenta oggi la giornata in base a questo questa lettura oppure girate una carta di tarocchi da vediamo un po oggi cosa succede cosa ci può insegnare questa storiella cosa importante e quale rapporto può avere perché angelo e tarocchi sono in stretta connessione strettissima connessione sono entrambi messaggi che arrivano dal mondo spirituale forse necessario dire qualche parola forse sì i tarocchi sono degli arcani e gli arcani sono qualcosa che esiste come impulso spirituale impulsi spirituali sono ciò che creano un universo su ciò che passa attraverso di noi noi siamo permeati di impulsi spirituali sia che ce ne rendiamo conto sia che molto spesso non ce ne rendiamo affatto conto noi siamo creati e manipolati in un certo senso anche nel senso più alto del termine da questi principi spirituali sono loro che agiscono attraverso di noi e guardate che voi siete un corso avanzato voi dovreste dovreste già familiarizzarvi con questo tipo di linguaggio i principi spirituali passano attraverso di noi passano anche attraverso dei simboli degli archetipi degli arcani ciò vuol dire che alcune figure sono state messe in atto da qualcuno che aveva la vista aperta sui mondi spirituali e che ha condensato in un'immagine qualcosa che potesse risvegliare all'interno del nostro mondo delle immagini che come dicevo prima non devono essere necessariamente riferite a un coppia in collo del passato cercate di capire questo punto perché è importante voi studiate la carta del bagatto oggi oggi lavoriamo sulla carta del bagatto eccolo qua vedremo insieme ma quindi questo è un arcano arcano è importante qualcosa che arriva direttamente dal cielo è come un principio spirituale è come quando ci dice pensi di avere occhi per vedere ma non vedi un principio spirituale passa attraverso di me non sono io che inventa queste cose e qualche cosa che esiste cioè l'essere umano un essere dormiente bene 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 e allora ecco qua che questo principio spirituale passa attraverso di me il mio compito è quello di riconoscerlo questo si chiama ricerca interiore ricerca di consapevolezza riconoscere questo principio spirituale e viverlo ma vedete all'inizio si vive tutto questo si vive con grande preoccupazione seguitemi bene perché adesso facciamo se cerchiamo di capire bene come funziona questo lo viviamo con molta preoccupazione e cioè caspita però vivo in un mondo faticoso sono spesso nella sofferenza nella frustrazione a volte rischio in qualche momento di depressione comunque di dolore gli altri non mi capiscono io non capisco gli altri questo è il nostro mondo per un lungo periodo di tempo lo viviamo con grande sofferenza e non abbiamo quella determinazione di toglierci istantaneamente vedete con la logica spirituale che il sistema di pensiero che usiamo noi che cerco di insegnarvi oramai da anni non facciamo più un lavoro di sezionamento delle nostre piccole difficoltà quotidiane ma facciamo un lavoro di spostamento di paradigma esistenziale cioè ci spostiamo su un altro piano e la cosa paradossale che questo sistema di pensiero che che la logica spirituale è estremamente più semplice e più naturale rispetto a quello dello sbattersi continuamente per cercare di vedere tutto quello che non va nella nostra esistenza e questo paradossale perché noi abbiamo veramente questa tensione nella ricerca interiore e questo fa parte naturalmente della trappola la trappola organizzata in modo che noi cerchiamo di essere diversi da quello che noi siamo e questo considerarsi considerarci non all'altezza ciò che noi possiamo fare è di per sé uno dei più grandi ostacoli è un paradosso lo so perché vogliamo cambiare e vogliamo cambiare perché non ci troviamo belli non ci troviamo armoniosi però all'inizio bisogna comprendere che questo sistema è estremamente più faticoso e molto spesso non porta a nulla in realtà l'approccio cardiaco è un sistema molto semplice di pensiero e cosa ci ricorda questo ci ricorda questo cieco questo cieco non fa cose strane ma sente parlare del nazareno che passa e incomincia a gridare non è che dice ma sarà però che devo fare qualche cosa incomincia a gridare signore signore aiutami cosa dice figlio di david abbi pietà di me va bellissima grida grida e gli altri dicono guardate il mondo vedete il mondo no ma non gridare non sta bene no poi non disturbare il maestro molto spesso i discepoli dicono ma non disturbate il maestro che ha da fare insomma cosa fate e lui dice lasciate che i bambini vengano a me e loro dice no no che i bambini si disturbano maestro sempre sempre i suoi discepoli si preoccupano per lui e lui lui ogni volta li smentisce questo qua comincia a gridare e allora gli altri dicono ma non gridare ma cosa che lì immaginate che qualcuno si alzi a gridare e se questa invece fosse la soluzione questo alzarsi improvvisamente molare tutto guardate il cieco si alza grida grida loro gli dicono non gridare lui grida di di nuovo e allora gesù gli dice chiamato cosa fa lui e gli dicono coraggio alzati ti chiama egli gettato via il mantello questo è un poveraccio molto di fame che è lì per terra che chiede la carità non è niente non ha nulla ai quei tempi non c'era non c'era niente era lì per terra a sperare che qualcuno gli desse qualche cosa per poter sopravvivere improvvisamente prende questa forza incredibile a buttami il mantello cosa non dire basta basta e infatti gesù gli dice la tua fede ti ha salvato perché a questo entusiasmo che è quello che noi dovremmo applicare applicare nella ricerca interiore toglierci dalle balle questo aspetto di pesantezza e la carta del bagatto qual è la prima cosa che ci che ci mostra e questo bel giovanotto che muove con grande delicatezza delle cose in mano guardate a mano non so non so cosa sia perché poi interpretare quei piccoli pezzetti non è che sia così importante quei piccoli pezzetti però sembrerebbe di essere un giocatore di danni magari uno delle tre carte ma è un napoletano che sta facendo tre carte chi lo sa però che cosa si nota che mentre sta armeggiando con questi utensili in realtà guarda da un'altra parte e ha un'espressione assolutamente serena serena cioè non il senso di questa carta è la serenità la calma con cui noi possiamo affrontare la ricerca interiore e calma non vuol dire che poi non possa gridare ma è avere quella determinazione che si porta diritti alla meta signore so che tu mi puoi guidare e come mai Gesù dice la tua fede ti ha salvato che cos'è questa fede questa fede è passare oltre tutti tutti i vari orpelli anche se il bagato ha un sacco di orpelli sul tavolo bene li passa oltre guarda oltre è pronto a un altro tipo di lavoro è pieno in un momento di grande serenità vedete è è la carta questa che ci indica la canume di così che ci indica la facilità la serenità con cui noi possiamo affrontare la ricerca interiore e parleremo di questo tutt'oggi quindi con calma c'è un altro brano del vangelo che io vi volevo leggere e che mi sembra importante guardate che faremo molto questo lavoro meditativo e lo sapete quindi abituatevi perché vi leggerò spesso il vangelo si chiama vangelo terapia quindi abituati quindi in un certo senso state aiutando una persona mi salta fuori la carta del bagatto oppure questo brano del vangelo beh una piccola idea incominciate a averla naturalmente la svilupperemo in questa lezione però caspita ma che bello che si alza è come dire una persona mi dice ma io sono in un momento di difficoltà o questi problemi queste cose non mi capisco il marito non mi capisce il lavoro dei problemi gli dicono queste cose poi salta fuori questo brano del vangelo e tu gli dici ma caspita grida e grida quello che vuoi e la vista lo darà ora potrebbe sembrare assolutamente folle e razionale però potrebbe anche essere la buona indicazione forse quella persona è proprio in quel momento particolare gesù sa riconoscere sa riconoscere quale momento particolare e guarda caso appena guarisce il cieco questo cieco cosa fa che cosa fa lo segue se ne sbatte se ha una famiglia una moglie una casa non ha più niente ha buttato via il mantello non ha più niente ci vede e ci vede non solo dal punto di vista terrestre ma ci vede soprattutto da un punto di vista spirituale sempre quando gesù guarisce dei ciechi anche nel caso del cieco nato ci si accorge che quella persona era pronta per essere miracolato perché in realtà mancava pochissimo era pronta sapete quante volte vi ho detto che l'entità di luce non possono aiutare gli esseri umani andando oltre il loro libero arbitrio questo lo spiegato tante volte ma quando voi siete pronti voi tendete la mano questo questo cieco che grida e che ha fede perché la fede poi la fede è quel passo quel gesto che voi fate verso gesù che voi fate verso il mondo spirituale allora il mondo spirituale vi risponde e questo gesto deve essere il fatto con una con una calma interiore che fuori può essere la manifestazione di qualsiasi cosa ma deve essere quella quel senso di di bellezza che di carne interiore vi leggo adesso un brano tratto da giovanni sapete che giovanni era il discepolo prediletto colui che appoggiava la sua testa sulle spalle sul cuore di gesù chi di noi non vorrebbe essere a questo punto di manifestazione aveva gesù vicino che ci accoglie come discepoli già già che ci chiamano in qualche modo e che ci dà un compito fondamentale il compito a tutti i discepoli è quello di dire dai andate a manifestare la buona novella andate nei paesi e ricordate le persone che esiste un metodo di risveglio che quello di insegnamento evangelico e a giovanni no a giovanni è tutto un altro mondo sapete che l'anno prossimo giugno farò un lavoro in profondità di dieci giorni quasi sul vangelo esoterico e profondo di giovanni perché giovanni era il discepolo diverso e noi adesso stiamo lavorando con giovanni l'evangelista è finito il tempo possiamo dire di pietro l'organizzatore della chiesa perché dal punto di vista esoterico cioè esterna la chiesa si combina poi si scombina anche perché come sapete le forze oscure cercano di prendere possesso in ogni modo a loro modo profondamente di qualsiasi tentativo dagli esseri umani di abitare nei mondi spirituali che non essere più di questo mondo che fanno qualsiasi cosa quindi cercano di impadronirsi delle strutture di questo possono farlo possono entrare le strutture in qualche modo e distruggere deteriorare dall'interno non sto parlando dei tempi attuali non so poi ognuno di voi veda quello che è in grado di vedere però questo è il lavoro oscuro e lavoro oscuro deriva dal fatto che quando si organizza un sistema di pensiero pieno di contenuti spirituali e poi questi contenuti spirituali in qualche modo diventano riti diventano dogmi diventano strutture diventano chiesi perché no perché questo era il periodo della chiesa di pietro tu sei pietro e su questa pietra appoggerò la mia chiesa va benissimo doveva andare così ma gesù sapeva benissimo che tutto questo lavoro esoterico questo lavoro esterno andava era perfetto per gli esseri umani che avevano bisogno di qualcosa in cui credere non c'era la possibilità ancora di avere un contatto personale intimo profondo come voi avete guardate che fortuna che privilegio che avete ma a quell'epoca non c'era questa possibilità queste persone avevano bisogno di delle carte da leggere avevano bisogno di qualcosa da vedere qualcosa da sognare non bisogno di parabole di qualcosa che raccontasse loro delle storie ma oggi noi abbiamo questo grande privilegio questa grande opportunità di andare oltre quei pezzetti quei dadi che ci sono sul tavolo del bagatto ma entrare nel mondo della semplicità della naturalezza nei confronti del mondo spirituale vedete e noi stiamo passando dalla chiesa in senso più alto del termine naturalmente di pietro quindi l'organizzazione esteriore con le sue carte da leggere con il suo vangelo da leggere perché no ma stiamo entrando nel tempo della chiesa di giovanni e cioè la chiesa della preparazione interiore ma ci stiamo preparando interiormente in realtà poi dal punto di vista esteriore che facciano quello che vogliono che cambino le cose cambino le preghiere cambino testi che facciano un po quello che gli pare noi adesso incominciamo a vivere in un altro mondo nello speriamo che sia così e spero che voi mi diate una mano questo è un corso avanzato quindi dovete darmi una mano in questo lavoro a cambiare proprio l'impostazione della ricerca interiore e che deve essere proprio la preparazione a al fatto che il cristo ritornerà a mio parere a parere di tanti pensatori in realtà non se ne è mai andato ma non importa non giochiamo sulle parole però ritornerà nel senso che ritornerà a splendere dei nostri cuori e noi ritorneremo o per lo meno incomincieremo a percepire la cristianità la luce la saggezza la via la verità la vita come dice gesù di se stesso nel nostro cuore guardate che siamo pronti per fare questo e vi voglio proprio comunicare questi principi spirituali fare diventare dei manifestanti dei propagatori della buona novella dal punto di vista della via cioè della determinazione con cui voi vi muovete in questo pianeta nella verità della vita insomma dobbiamo diventare dei manifestanti della vita essere pieni di meraviglia ecco questo anche anche questa meraviglia un po è un po con l'espressione ingenuo e naturale che ha il pagato e quando da un'altra parte fa le cose con grande naturalezza e questo mi ve lo voglio proprio insegnare che stanno tante carte da vedere sicuramente però il lavoro su di sé può diventare come respirare nutritevi dei principi spirituali fino a quando non ci dovete più pensare e allora potete occuparvi di altro potete vivere mentre vivete esprimete i principi spirituali ma questa è una cosa che vedremo poi in seguito quindi questo è pensiero tratto da giovanni quindi volevo leggere sapete che faremo un lavoro meditativo quindi chiudete gli occhi e ascoltate bene questo pensiero perché se volete fare maggior terapia poi arriverà un momento nel quale vi capiterà forse questo brano e questo brano potrà illuminarvi interiormente e questo è il nostro obiettivo di quest'anno e fare in modo che qualcosa parli attraverso di voi se ci riusciamo che non siate più degli esseri umani copia in colla ma che possiate avere il coraggio profondo di lasciarvi andare di interpretare la vita nell'improvvisazione più assoluta improvvisazione che sono ogni istante siete nuovi e guardate il mondo con occhi nuovi e ascoltate le suppliche le preghiere e le richieste di aiuto delle persone che si rivolgeranno a voi in un modo completamente nuovo e guarderete quelle persone in un modo completamente nuovo sembra un'utopia e invece ce la possiamo fare ascoltate questo pensiero giovanni capitolo 3 versetto 1 ascoltate bene c'era tra i farisei un uomo chiamato nicodemo un capo dei giudei egli andò da gesù di notte e gli disse maestro sappiamo che sei venuto da dio nessuno infatti può fare i segni che tu fai se dio non è con lui gli rispose gesù in verità in verità ti dico se uno non rinasce dall'altro non può vedere il regno di dio gli disse nicodemo ma come può un uomo nascere quando è vecchio può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere gli rispose gesù in verità in verità ti dico se uno non nasce da acqua e da spirito non può entrare nel regno di dio quello che è nato dalla carne e carne e quello che è nato dallo spirito e spirito non ti meravigliare se ti ho detto dovete rinascere dall'alto il vento soffia dove vuole e ne senti la voce ma non sai da dove viene e dove va così è di chiunque è nato dallo spirito e replicò nicodemo ma ma come può accadere questo gli sposi gesù tu nicodemo tu sei maestro in israele e non sai queste cose in verità in verità ti dico noi parliamo di quel che sappiamo e testimoniamo di quello che abbiamo veduto ma voi non accogliete la nostra testimonianza se vi ho parlato di cose della terra non credete come crederete se vi parlerò di cose del cielo eppure nessuno è mai salito al cielo fuorché il figlio dell'uomo che è discesa dal cielo e come mosei innalzò il serpente nel deserto così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo affinché chiunque crede in lui abbia la vita eterna ma che questo mangio di giovanni ragazzi prenotate subito il viaggio per spagna perché ragazzi faremo un lavoro un lavoro bellissimo allora vediamo un po questa storia ma è piena piena anzi parola già questo qua questo nicodemo poveraccio che non capo dei giudei quindi immaginatevi un po come funzionava come funzionava la volta se questo era il capo immaginatevi gli altri cosa potevano pensare lui dice già ma come fai dice vedi gesù tu puoi fare solo chi fa i segni come i tuoi intendeva i miracoli chi può fare i segni come i tuoi se dio non è con lui e voi sapete vi ho parlato tante volte di come gesù ce l'abbia con questi segni mica segni generazione perversa incredula voi volete dei segni sapete cosa sono dei segni miracoli e certo lui faceva i miracoli certamente affinché si compissero le scritture e ancora una volta bisogna vedere tutte queste cose lui aveva un progetto questo progetto era chiaro e in questo progetto facevano parte quelli che sono i miracoli doveva effettivamente dare dei segni ma questi segni dovevano servire a scuotere le persone al di là dei segni sopra i segni esattamente come il bagatto è pieno di oggettini di ma lui è completamente in un altro mondo è completamente concentrato guardate la sua concentrazione è proprio quella che descrive poi gesù dice ma adesso ci arriviamo e quando lui dice guardate questa frase che meraviglia guardate la carta del bagatto guardate gli occhi di questo ragazzo qua e ascoltate questa frase il vento soffia dove vuole e ne senti la voce ma non sai da dove viene e dove va così è chiunque cercate di prendere questa frase in senso spirituale di ricerca interiore siete in grado di fare questa ricerca interiore di portare avanti questa ricerca interiore ben sapendo che non sapete né da che parte arriva nel dove dovete andare ma per dove dobbiamo andare da che parte dobbiamo andare diceva totò che ci insegnava a suo modo questi passi del vangelo siete in grado di iniziare un lavoro su di sé di ricerca interiore senza continuamente smadonnare all'interno del vostro mondo io vorrei essere così questo questo senso che è tipico della personalità che è una trappola la personalità non essere mai contenti di quello che si è vuole sempre forzare le cose vuole sempre essere diversi quello che si è e questo è uno dei più grossi ostacoli alla ricerca interiore forse per questo che la carta numero uno ci implica la naturalezza la spontaneità e la serenità di un giovane che fa le cose che muove questi oggetti con grande naturalezza e con grande semplicità allora immaginatevi adesso che voi state facendo una ricerca interiore e la state facendo se no non sareste qua adesso prendete questa frase se vi capiterà di leggere nella vangelo terapia questa frase prendetela su di voi portatela dentro al vostro mondo abbiate il coraggio di fare questo e vedrete che vi darà un sacco di spunti di riflessioni senza doverle cercare per forza in qualcosa che voi avete conosciuto avete copiato incollato sentite che bello allora immaginate che state facendo lavoro su voi stessi e lo state facendo e guardate questa frase come funziona dentro di voi il vento soffia dove vuole e ne senti la voce ma non sai né dove viene né dove va cosa vuol dire questo vento che cos'è sono questi principi spirituali che passano attraverso di te te ne rendi conto non puoi più far finta che non sia così puoi fare mille cose per cercare di dimenticarti di te stesso ma in realtà poi la tua la tua vera essenza rinasce sempre sempre lì c'è qualcosa che passa attraverso di te il vento soffia dove vuole è qualcosa che passa attraverso di te e tu ne senti la voce perché tu sei qua oggi e tu sai che è così tu sai che c'è qualcosa nel tuo cuore che funziona che si esprime c'è questo impulso alla vita alla verità alla bellezza all'armonia c'è qualcosa che vive attraverso di te lo percepisci anche adesso ma da dove viene questa cosa dove va questa cosa perché sei sempre preoccupato di dove viene dove va questa forza qua quando invece sai che la tua felicità la tua serenità deriva dall'atteggiamento del bagate in cui incomincia a muovere le cose nel tuo mondo le cose incominciano ad essere mosse in base dei principi spirituali e scompaiono tutte le preoccupazioni i fraintendimenti i problemi quotidiani che non esistono e un po alla volta un po alla volta forse non da un giorno all'altro anche se il brano che abbiamo letto dice proprio da un giorno all'altro ti alzi e gridi Gesù 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 abbi pietà di me accidenti che meraviglia questa determinazione assoluta e allora Gesù che ha dichiarato che sempre di con noi poi arriva e ti fa esattamente quello che di cui hai bisogno e di cosa hai bisogno tu di vedere te ne accorgi hai bisogno di vedere arriva e ti ridà la vista e da quel momento con grande facilità ti libri dal mantello che può un po come san francesco ha fatto che si è liberato dai suoi vestiti è così e se lo segui subito ora non so se incontrerai Gesù di persona però lo puoi seguire interiormente mettendo da parte tutti quei problemi che normalmente ti porti dietro in uno stato di grande semplicità allora percepisci questa cosa vedete guarda questa cosa allora il vento il vento questo vento che soffia dove vuole ne senti la voce questi principi spirituali che passano attraverso di te cerca di percepire non sai da dove vengono non sai da dove vanno e così è di chiunque è nato dallo spirito riesce ad accettare che ci sono delle cose che non capisci che paradossalmente 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 quando riesci a uscire a questo tentativo del mondo del mentale inferiore di impadronirsi assolutamente di ogni concetto spirituale manifestando nel copia incolla di qualcosa che vuoi imparare tu vuoi imparare perché così ne tieni conto poi la persona ti chiede mi leggi tarocchi e tu sai hai conosciuto lo fai lo giri in un modo di fianco di destra e sinistra bene allora ti so dire ma va benissimo fate bene a fare così però in questo lavoro che faremo insieme chissà se riuscite a liberarvi da questa angoscia perché è un'angoscia insomma avere appartenere al mondo del passato perché quando appartiene al mondo del passato stai parlando con la persona che ti sta chiedendo aiuto stiamo parlando di terapia comunque in base dei criteri che sono sicuramente vecchi accetta questa cosa perché il vento che sta soffiando attraverso di te non è lo stesso vento che soffiava ieri però ci vuole molto coraggio fare questa cosa bisogna sarsi in piedi gridare gridare e Gesù riconosce la fede e la fede è quella cosa ancora una volta che ti permette di girare delle carte e di lasciarti ispirare in uno stato di completa improvvisazione spirituale intuizione e ispirazione spirituale ce la possiamo fare ma bisogna avere coraggio coraggio perché perché funzioniamo con dei criteri di pensiero guardate che è un corso avanzato questo quindi mi permetto di parlarvi così avere il coraggio di restare in silenzio interiormente di di affrontare il mondo in un modo nuovo con quell'atteggiamento interiore allora ancora una volta perché insisto su questo perché se non percepite dovete dobbiamo fare un lavoro di partecipazione profonda se no sono ancora delle storie che vi racconto e poi va sempre a finire nello stesso modo adesso vi ripeto questa cosa chiudete gli occhi un attimo e dovete percepire questa frase come se veramente fosse un tutt'uno con ciò che c'è di reale in voi qualcosa che passa attraverso di te non dal tuo vicino di casa chiudi gli occhi e ascolta bene in verità in verità in verità ti dico se uno non nasce da acqua e da spirito non può entrare nel rio dice e senti muoizzi che canta l'erode al signore e il cane ma che meraviglia ma senti che bello da questa parte c'è il muoizzi che canta le lode sul minareto e in alto il minareto canta sentite e di qua c'è il cane che risponde senti che roba a suo modo il cane cane sta anche lui innalzando le lode al signore ma che bello e in questa ricchezza esteriore voi pensate che ci sono persone invece che arrivano qua dicono ma cavolo ma c'è il muoizzi che canta alle 5 del mattino è meraviglioso quando senti muoizzi che canta alle 5 del mattino mi ricorda che tutti quanti noi siamo su questo pianeta per cantare le lodi del signore invece c'è chi è lì che dice ma io non riesco a dormire questo qua mi rompe le balle perché cosa canta non possono cantare più piano no questi devono urlare perché perché a gesù piacciono le persone che urlano come come il cieco che urla che dice a gesù ti occupi di me sì o no hai pietà di me sì o no fantastico a gridare le lodi al signore noi invece no insomma è il cane che risponde allora in questo contesto di grande ricchezza per questa ricchezza poi venite qua dormite diciamo il cane alla mattina alle 5 canta con il muo e zin del minaretto e voi dite non poi non ho più preso sonno certo che siete una manica di mezza seghe ma come siete organizzati ma siete sempre in tempo per dare una svolta che voi con i vostri integratori con i vostri vitamini o cose del cavolo che vita di merda che fa ma ragazzi miei ma è l'atteggiamento esistenziale e questo non lo posso mangiare questo non lo posso bere questo mi dà fastidio questo sono allergico questo mi dà porco porco ragazzi in realtà tutto questo accade affinché voi vi svegliate interiormente no invece noi voi perché io dormo solo quando le finestre sono chiuse nel buio più assoluto se c'è un po di luce mi sveglio cosa ti ha fatto la luce ma come ma se sono 40 anni che lavori su te stessa e che adesso che stai cercando la luce poi con dentro un po di luci non riesco più a dormire che manica di mezza seghe pazzesca però quanto sento il mio vicino di casa che scorreggia allora poi non riesco più a dormire madonna ragazzi ma la semplicità dove andate a finire vi siete talmente complicati che addirittura il vostro sistema psicofisico si organizza per inventarvi delle cose perché così dite così non vi svegliate mai rimanete sempre in uno stato di catalessi però di tema è normale perché se io mangio un po di cos'è che mangiate voi il tofu mangiate il tofu una roba pazzesca dice se ho mangiato troppo tofu e il mio stomaco che urla lo stomaco urla ma dovresti urlare in turno ma signore mio questa è la carta del bagaggio ci insegna un po questa cosa qua la semplicità la resistenza poi muovete quello che volete ma con grande con grande maestria maestria non continuamente lamentandovi se il bagatto fosse un lamentoso guarderebbe le sue cose direi boh Dio speriamo che nessuno mi tocchi niente se questo mi cade dalle mani guardate con che delicatezza ha questo oggetto sembra proprio sembra proprio appeso in aria guarda dall'altra parte è così che funziona perché esiste la meccanicità a livello terrestre che ci fa ricordare a malapena quale chiave dobbiamo mettere nella serratura insomma ci fa ricordare qualche appuntamento sì ma questa è veramente meccanicità terrestre poi c'è il mettere in atto un sistema di comprensione che diventa anch'esso semplice i principi spirituali ve ne potete nutrire e poi non li dovete più cercare perché sono sempre lì con voi ma all'interno dovete incominciare a nutrire questa calma questa serenità questo silenzio volete restare un po in silenzio volete smettere di lamentarvi ma lì da te fa troppo caldo poi in italia fa troppo freddo eh signore mio e poi siete per strada su 30 gradi poi entrate in un certo commerciale ce ne sono 15 dita quando entri un certo commerciale mi ammalo per andare a comprare un pacchetto di di caramelle dovete metterli tre pigiami e così funzionate così dentro poi uscite oh che caldo e poi entrate oh che freddo oh che caldo oh che freddo ma guardate che la vita non è così come come ve la siete messi insieme le cose sono molto più semplici allora questa carta parla di questo allora se questa carta vi sta sulle balle perché non vi piace sentire queste cose lasciate perderlo cosa girate le carte per gli altri gira questa carta per te stesso imposto la tua esistenza sulla semplicità sulla naturalezza sulle cose semplici e dirette dirette voglio la mia vita ha un senso e voglio che la vita l'esistenza e lo spirito santo e il mondo spirituale scorra attraverso di me più semplici di così non c'è niente perché non devi fare niente testone se la vita spirituale scorre attraverso di te dimmi tu cosa cosa puoi fare dice se Gesù ti chiama cosa gli dici Gesù però io se non ho il mio cuscino non ti posso seguire ma che mondo ma ma come vi siete organizzati se non ho le mie medicine se non ho i miei integratori ma che cavolo di vita vi siete organizzati e questo si riflette voi dite ma cosa c'entra questo sulla ricerca spirituale c'entra perché se avete siete pieni di cose che non vanno è che da qualche parte è così da qualche parte questa energia spirituale che non sai da dove vieni non sai dove va e dovresti lasciarla scorrere da qualche parte la fermi da qualche parte allora non puoi più mangiare questo non puoi mangiare l'altro non puoi più questo qua c'è un profumo che non ti piace o un cibo che non una cosa o una situazione e l'aereo prende l'aereo ma è stanco sono stanco l'aereo è un viaggio lungo poi io soffro di vertigine ma che vita e tutto questo da cosa dipende tutta questa complicazione è che in mezzo alla complicazione il vostro mentale inferiore c'è una parte oscura ci sguazza dentro io non posso fare questo perché perché qui perché non posso perché poi là che tu mi viene male di qua mi viene male di piedi porco dico porco porco allora volete girare questa carta quando qualcuno vi chiede aiuto a voi girate il bagatto il bagatto cavolo lo guardate negli occhi e gli dite rilassati ma prima dovete dirlo voi stessi se no come cavolo cosa cavolo volete leggere queste carte giratela per voi questa carta qua questo è il mio obiettivo dire cosa direte voi in quel caso lì perché in quel momento voi sarete consapevoli io lo so che sarà così forse sarete consapevoli che che l'improvvisazione cos'è l'improvvisazione l'improvvisazione girate le carte improvvisate è l'improvvisazione esattamente quel vento che scorre lo senti ma non sai da dove viene e non sai dove va e questo diventa la tua natura e invece di vivere questa cosa con angoscia con frustrazione incominci a viverla con un senso di pace e devi stare in silenzio dentro e smettere di dare spiegazione a tutto quello che c'è oggi piove sarà il monsone sarà la stagione delle piogge sarà quel che sarà sarà l'aurora continuamente dovete sempre commentare oggi fa così ragazzi oggi va così e d'altra parte vogliamo studiare queste carte guardate l'espressione del bagatto non è bello tranquillo e allora il nicodemo è uno che si preoccupa eppure è un saggio è un saggio come siamo noi si preoccupa e dice è vero tu vieni da dio perché fai dei segni e lui dice ma nicodemo porco porco nicodemo gli dice porco porco gli dice ma non è dai dei segni che tu devi interpretare queste cose devi vedere nicodemo gli dice ma come fai a rinascere se tu sei già vecchio pensate un po a cosa ci porta i nostri schemi di pensiero cosa fa posso fosse entrare una seconda volta nel grembo di mia madre rinascere pensate un po questo è il nostro mondo il nostro mondo sul quale basiamo le nostre follie la nostra vita di tutti i giorni su questo mondo del nulla più assoluto noi basiamo la nostra ricerca spirituale e ci organizziamo per mangiare per bere per viaggiare tutte queste cose qua in base dei principi che sono aria fritta frutto di cose del passato di frustrazione del passato a cui dire ciao a cui dire bisogna gridare gesù gesù basta salvami dammi lo sguardo dammi la vista perché siamo ciechi siamo addormentati e ciechi e a un certo punto ci vuole un atto di fede e gli dice ma gesù come faccio entrare di nuovo nella mamma signore mio e gesù gli risponde gli risponde delle cose di una bellezza straordinaria questo qua è in pieno delirio e siamo noi in pieno delirio dovete cercare di capire questo sempre preoccupati il bagatto che guarda sul tavolo dice che chiediamo che nessuno mi rubi i dadi o mi rubi i soldi e mi rubi le cose qua infatti c'è anche un coltello e invece no questa prima carta che è la più importante l'hanno messa numero uno questo è qualcosa che arriva dal cielo è un insegnamento importante e attraverso il silenzio la capacità di improvvisare nella capacità di improvvisare nella musica l'improvvisazione è arrivata non da molti decenni prima improvvisazione era incomprensibile solamente dei pazzi scatenati potevano improvvisare moza paganini che la famosa per le sue improvvisazioni hanno lasciato un segno hanno aperto hanno aperto dei varchi all'interno della coscienza e sapete che la musica e l'arte sono in diretto rapporto con l'esplosione della consapevolezza terrena è nata l'improvvisazione diventando fondamentale nel modo del jazz nel modo del jazz l'improvvisazione è una meraviglia assoluta e ci sono persone che si rendono conto musicisti di grandi livelli che si rendono conto che anche quando improvvisano tuttavia sono sempre legati a quel coppia in colla di cui parlavamo prima e quando voi leggerete queste cavoli di carte voi dovete accorgere che siete sempre legati a qualcosa che appartiene a un mondo che è già lì da un pezzo e musicisti che hanno ricominciato a studiare da capo che hanno detto io non voglio eseguire dei pezzi anche se sono improvvisazioni che in realtà sono il ricordare delle scale melodiche che appartengono a un mondo che ho studiato perché questo mi frena nella mia purezza gioia di vivere è così perché si può essere gioiosi oppure si può vivere con il freno a mano tirato come abbiamo visto nelle ultime lezioni il freno a mano tirato è così invece questa capacità di coraggio di improvvisare senza che ci sia qualche cosa all'interno del nostro mondo le prime volte saremo un po così forse saremo un po così dicendo ma chissà cosa racconto chissà cosa dirò chissà cosa farò però all'interno dovete fare questo periodo di silenzio dovete smetterla di lamentarvi di quello che mangiate non potete mangiare potete bene potete viaggiare potete camminare potete fare questo potete farlo smetterlo assolutamente di vivere nel mondo delle piccolezze terreni poi ci sono ma spariscono poi sparisce tutto un po alla volta se ne va tutto invecchiando si può diventare più più belli e che bisogna diventare per forza più in più i bambini è scritto da qualche parte si può restare con questo atteggiamento di guardare le cose così esattamente come come fanno questi personaggi allora gesù risponde come al solito delle cose completamente fuori di testa sta improvvisando si capisce perché la sua risposta non ha alcuna attinenza con quello che nicodemo gli sta chiedendo nessuna attinenza sta improvvisando totalmente e questa è la bellezza del suo messaggio infatti noi facciamo fatica a capire perché se lui parlasse sul piano orizzontale direbbe no nicodemo vedi ma no non sto dicendo che uno deve andare nel grembo dalla mamma quando dico di questa è la risposta questa è la risposta quella dove siete preoccupati della risposta allora date la risposta giusta diciamo perché no perché capisci perché tu tu qui è così bene fai così allora fai così vedete quello che voglio dire oh ma no non è così gesù sta improvvisando si percepisce questa cosa ma sentite un po allora nicodemo gli appena detto e io non so io devo stare su questi pensieri cosa volete che vi dico gli appena detto ma io non posso ritornare nel ventre di mia mamma la seconda volta e lui risponde in verità in verità ti dico se uno non nasce da acqua e da spirito non può entrare nel regno di dio fermiamoci su questa frase fermiamoci su questa frase e voi dite io lo so come siete fatti se uno non nasce da acqua e da spirito vi dita l'acqua che so come fatto l'acqua il rapporto all'emozione o lo spirito il rapporto al fuoco o perché l'avete studiato da qualche parte testo in testo che è giusto che è vero però vedete come siete vedete il copia in colla perché allora perché di gesù dice sta dicendo che allora uno deve nasce dall'acqua c'è dalle emozioni e dallo spirito dal fuoco altrimenti non potete entrare nero di dio ma avere il coraggio ogni tanto di lasciar perdere quello che avete imparato da qualche parte rilassarvi interiormente stare in quello stato di silenzio e piuttosto stare zitti piuttosto che sparare delle cose che sono sempre le stesse che adesso tutti commentano tutti allo stesso modo tutto un copia in colla generale che non si sa neanche da dove arriva tutta un'interpretazione che sono fatte tutti uguali nel mondo della ricerca interiore adesso c'è ci sono delle banalità mostruose dicono tutti le stesse cose credendo di fare dei discorsi intelligenti credendo di dire delle cose delle cose importanti ma perché adesso adesso in un periodo che mi dicono perché il mondo new age ha rovinato tutto i luoghi comuni delle cose ma cosa ne sapete nel mondo new age non mi rendete conto che fa parte del gioco oscuro della propaganda oscura quella di rendere tutto un minestrone pazzesco e voi pensate di essere spirituali dicendo il mondo new age ma io l'ho vissuto il mondo new age ho contribuito a crearlo questo mondo new age era una meraviglia fino a quando non è stato ha mangiato dalle forze oscure e allora voi guardate solo alla fine diceva perché il mondo new age ti ha salvato la vita testone testa di rapa che non sei altro perché quando eravamo coi capelli lunghi hippie e dicevamo non i cannoni ma mettete dei fiori nei vostri cannoni che era una famosa canzone ma era bellissima questa cosa poi voi chissà dove eravate poi i vostri genitori che ci guardavano io mi ricordo quando avevo i capelli lunghi mi gridavano per strada va laurea va laurea capito va laurea capito va bene perché perché mi vestivo a colori e potete ben immaginare coi capelli lunghi fino a sedere va laurea va bene ho capito e tu dove eri tu non eri ancora nato ma non è che sei fuori da sta cosa perché sei il figlio di quelli va laurea e allora poi un po alla volta e mi ricordo c'erano delle persone straordinarie poi un po alla volta qualcuno è diventato un politico è diventato un rimbambito rincognito completo e non faccio nomi ma persone che facevano parte del mondo studentesco del mondo della rivoluzione e allora cosa c'entra sta nuova cosa ha rovinato la nuova cosa ne stai sono dei cliché che dite che continuate a ripetere senza rendermi conto di che cosa c'è dietro e quando mi dicono la new age io sono uno della new age poi non capiscono niente perché poi inutile rispondere sullo stesso piano perché quando dice delle banalità qualche giorno fa una una ragazza intelligente comunque sa che mi occupo di cose spirituali mi dice ma tu ci credi alla reincarnazione ma io ho passato la mia vita a far svegliare le persone sul fatto che credere o non credere in qualche cosa non ha senso poi capisco sono domande che le persone fanno ed è giusto che le facciano così però le persone non si rendono conto pensano di esprimere qualche cosa che faccia parte di una ricerca spirituale in realtà è tutto un minestrone tutto un copia e incolla senza senso e questo il gioco del mondo scuro allora come si esce da questo gioco del mondo scuro con la carta del bagato tu giri la carta e hai davanti qualcuno da aiutare ti dice esci dal mondo scuro ritrova la semplicità ritrova la naturalezza ritrova la capacità di improvvisare che alla base della lettura del vangelo la base del tu lettarò che all'inizio avrei un po paura di fare una figura indicata e cavolo se sto in silenzio cosa dico ma devi avere il coraggio di provarci per dieci volte cento volte non sarai un po in confusione ma finalmente se tu veramente ti credi se veramente gridi e gesù se veramente gridi che vuoi avere la vista cosa posso fare per te ti dici se voglio vedere voglio vedere porco porco e allora guardate che meraviglia gesù cosa dice non ti meravigliare se ti ho detto dovete rinascere dall'alto pensa che delicatezza voi dovete rispondere così alle persone improvvisando e queste frasi verranno attraverso di voi vedete non tali e quali ma insomma il senso delle vostre cose perché dentro di voi c'è tutta la ricchezza dell'universo così in alto così in basso imparati dalle frasi di gesù a improvvisare a sentire questa forza sentire questo principio spirituale che passa a verso di voi ma non è una meraviglia questo guardate come risponde gesù a questo qua che dice che deve andare dentro la mamma per rinascere di nuovo gli dice non ti meravigliare nicodemo se ti ho detto dovete rinascere dall'alto con quanta delicatezza risponde a questo farlocamento di questa persona qua e secondo me ne ha cambiato la coscienza che è cambiato veramente qualche cosa non ti meravigliare nicodemo non ti meravigliare se ti ho detto dovete rinascere dall'alto il vento soffia dove vuole e ne senti la voce ma non sai né da dove viene dove va questa frase mi ha cambiato la vita quello la capite e se voi capite bene come parla gesù questa frase cambia la vita anche a voi perché se tu non sai da dove viene non sai da dove va però percepisci questa forza questa è la fede testone questa è la fede che ti fa diventare con gli occhi pieni di luce questa è la fede che ti fa finalmente vedere all'interno del caos e della confusione di questo mondo percepisci questa cosa fammi sto favore percepisci da questa cosa perché faremo un lavoro di questo tipo voglio fare un lavoro di questo tipo guardati dentro dai ancora due minuti chiudete gli occhi ancora due minuti per favore vi ripeto questa frase perché senti in delicatezza senti gesù che parlate ai miei occhi chiusi dice non ti meravigliare se ti ho detto dovete rinascere dall'alto che delicatezza ti parla tu che sia un testone che diceva ma io cosa devo fare cosa posso fare cosa posso fare per diventare luminoso io voglio far parte delle forze della luce voglio che gesù mi venga a salvare e poi invece di buttare via il tuo mantello ti porti dietro il tuo cuscino e i tuoi integratori del pifero gesù aspetta che vado a casa prende la valigia ma è già andata è già andato via ma senti che meraviglia stai lì con gli occhi chiusi non ti meravigliare se ti ho detto dovete rinascere dall'alto il vento soffia dove vuole che ne senti la voce ma non sai da dove viene dove va poesia pura sublime e così è di chiunque è nato dallo spirito e poteva aggiungere nicodemo tu sei nato dallo spirito smetti di farlo care smettila di essere un demente completo percepisci questa forza che c'è dentro di te e smetti di dire delle stupidaggie ma replicò nicodemo come può accadere questo figurati noi siamo fatti così come può accadere questo e gesù gli risponde nicodemo tu sei maestro in israele e non sai queste cose eh sì questa è la chiesa di pietro questo è il dogma questo è il maestro che conosce a memoria delle parti della torah o della bibbia vedete erano gesù gli risponde ma tu che sei maestro in israele non sai queste cose in verità in verità ti dico noi parliamo di quel che sappiamo e testimoniamo di quello che abbiamo visto ma voi non accogliete la nostra testimonianza se vi ho parlato di cose della terra e non credete come crederete se vi parlerò delle cose del cielo eppure nessuno è mai salito al cielo fuorché il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo e qui una bella analogia per finire l'analogia la forza dell'analogia accidenti accipitia e come Mosè e come Mosè innalzò il serpente nel deserto così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna c'è un tipo qua che ti promette la vita eterna e tu sei lì che ti preoccupi se dormirai o di cosa mangerai e questo ti promette la vita eterna dice sì però signore tu mi prometti la vita eterna ma è troppo la vita eterna ma è troppo la vita eterna ma no mi basta stare un po meglio magari digerire un po di più sì perché magari così c'è un po grattarmi un po di meno sotto sotto il sedere o sotto i piedi allora allora cosa c'è cos'è questo 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 bagatto qua cos'è questo bagatto qua allora rappresenta proprio questo 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 sapere le cose e muovere il mondo intorno a sé in questo stato di grande semplicità questo stato di grande grande semplicità naturalmente c'è una frase che vi ho preso ecco per esempio questa frase tratta da matteo capitolo 11 versetto 30 questo è uno spunto che ho preso da un libro molto bello che parla dei tarocchi è un fatto molto 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 bene questa frase che dice il mio gioco è soale e il mio peso è leggero una frase che avete sentito tante volte trasformare le vicissitudini nell'esistenza in un gioco in un gioco per poter entrare nel rino dei cieli questo è il bagatto quando voi girate la carta c'è qualcuno che vi chiede mi leggi i tarocchi voi girate la carta e dite caspita la vita è un gioco però dovete avere quel sorriso quella 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 serenità interiore che deve essere contagiosa se siete delle mezze seghe potete girare le carte fino a quando volete e testimoniate il vostro essere delle mezze seghe e come potete aiutare l'altro dovete manifestare voi prima di tutto questo questo gioco è soave questo peso è soave e insiste Gesù su questo è soave e il mio peso è leggero il peso è leggero quando capiremo questa cosa ecco cos'è il bagatto ecco cos'è la maggior terapia ma vivetelo questo questa leggerezza insomma senza preoccupazione interpretando quello che la vita vi dà come una benedizione qualsiasi cosa accada e questo che faremo quest'anno io vorrei lavorare su questo se no se no di farvi diventare più leggeri interiormente e lo potete fare e basta con questo vabbè questo vi ha già rotto le scato dice lo yoga che dicevo questa frase l'ho presa da un libro sui tarocchi molto bello uno yoga sutra dice la yoga è la soppressione dei vacillamenti della sostanza mentale ma che bello ve lo rilego che lo yoga è la soppressione dei vacillamenti nella sostanza mentale e quindi l'arte della concentrazione nella calma e nel silenzio senza sforzo ma non è bello tutto questo ecco cosa ci indica la carta questa carta di tarot che è la prima e quando voi voi capite questo poi potete incominciare a leggere le altre sono le altre diventano tutte le menate ancora una volta copia e incolla ma vediamo un altro particolare visto che non ci resta molto tempo questo famoso cappello questo famoso cappello che il simbolo dell'infinito ma è una meraviglia sto cappello io ne voglio uno così che se mi sbaglio a farlo sembra napoleone invece che è il simbolo dell'infinito allora quante volte vi ho parlato di nutrire il sentimento dell'infinito nel nostro cuore che vi cambia completamente tutto che i problemi esistenziali come potete avere un problema esistenziale oggi se lo inserite in un contesto di un milione di anni cosa sarà un milione di anni dei problemi che oggi ma cosa sarà ora mi devo occupare delle cose ma non preoccupare certamente se sono dei problemi di riguardo riguardo e risolvo certamente a volte anche gridando come fa il cieco che chiama Gesù bisogna a volte gridare a volte buttare il mantello a volte seguire la via spirituale seguite la via spirituale arrivederci e grazie arrivederci capito ma quante volte ho insistito su questo infinito nel cuore che arriva contemporaneamente al coraggio di improvvisare allora il vostro cuore che normalmente è chiuso in una scatola dove vedete le cose così che sono fatte così questo è fatto così questo è fatto così da qui non posso uscire da qui voi guardate tutto il mondo all'interno di un guscio abbiamo parlato tante volte di questa cosa è il senso di infinito quanto è importante svilupparlo nel proprio cuore vedere le cose lontane nel tempo ricordo di avermi insegnato tante volte che ricordate il cerchio dell'evoluzione il cerchio dell'evoluzione Dio io e le forze che si esprimono questo cammino che fa l'anima verso l'evoluzione e la completezza di sé ora vedo questo questo simbolo dappertutto le persone non sanno da dove arriva questa interpretazione dei principi spirituali però bene benissimo tantissimi insegnanti lo usano ancora tuttora questi simboli è meraviglia che sono simboli sono arcani anch'essi il cerchio con una freccia che corre che ci indica e quante volte vi ho detto se volete capire il futuro dovete imparare interpretare il passato dal punto di vista della ricerca spirituale allora potete leggere il futuro perché ciò che è accaduto in un passato allo stesso modo lo potete ritrovare nel futuro quindi potete leggere ciò che accadrà che meraviglia sempre in base a questa ricerca di sé però se vi guardate dentro e dovete guardarvi dentro perché le risposte esistenziali sono dentro boh dovete avere questa forza e questa forza deriva dalla qualità del silenzio perché l'intelligenza del cuore che vi piaccia o non vi piaccia si esprime esclusivamente all'interno di un mondo silenzioso questa cosa è difficile da mandare giù e perché è difficile da mandare giù perché tutta la vita avete continuato a investigare nei mondi spirituali facendo dei grandi discorsi che vanno fatti cosa sto facendo io adesso con voi anche Gesù rispondeva alle domande però è un altro è un'altra cosa è un altro mondo allora l'infinito questo questo essere ha sul capo l'infinito sapete che l'infinito può essere infinito in realtà l'abbiamo sempre messo nelle emozioni superiori in realtà non è un'emozione il senso dell'infinito è un principio spirituale appartiene quindi al mondo del mentale superiore per quello che è diventato un cappello perché ci sono dei principi spirituali che si manifestano come emozioni la tenerezza l'affetto la compassione non c'è dubbio che partano da un atteggiamento cardiaco poi ci sono dei principi spirituali come la giustizia per esempio come la bellezza per certi aspetti come l'infinito l'eternità per esempio che appartengono al mondo del mentale superiore e verso questo mondo stiamo andando lentamente ma ci stiamo andando dove percepiremo tutto quanto al di fuori di quegli schemi di pensiero che abbiamo avuto per milioni di anni e adesso siamo ancora imbevuti da questi schemi di pensiero e questi schemi di pensiero ci tolgono dal mondo reale e ci riempiono di fastidi interiore di fastidi per tutto quello che succede siamo sempre infastiditi da qualcosa che succede a destra e sinistra continuamente allora quest'anno i lavori insieme cercheremo di di lavorare sul silenzio interiore ce la fate ce la farete quante volte ve l'ho detta questa cosa e poi mi sento sempre parlare sempre sempre lo stesso modo ce la farete un po di silenzio di smettere di commentare tutto quello che è tutto quello che parcheggia qui parcheggia l'altra continuamente continuamente commentare tutto quanto sarebbe meglio che tu parcheggi di qui questa macchina qui la devi mettere la questa macchina la devi mettere lì continuamente continuamente e stare in uno stato di silenzio meditativo è un po alla volta passeremo a questo stato di coscienza che manca ancora poco e adesso vi volevo leggere un altro bravo del viangelo così è così vi fate una bella cultura bel background da cui poi potrete finalmente improvvisare va bene manca qualche minuto quindi ancora una volta ascoltate questa parabola perché parlava in parabola di gesù se le inventava queste storie se le inventava di sana pianta sapete come quei nonni che raccontano le fiabe ai loro nipoti che possono o raccontare qualcosa che conoscono oppure improvvisare che meraviglia sono i nonni che improvvisano delle storie e i bambini si godono le storie improvvisate in un modo incredibile che meraviglia voi siete qualcuno che improvvisa una favola o abbiamo perso l'abitudine di improvvisare una favola nel prossimo seminario che siamo insieme facciamo un seminario su ognuno di voi si inventa improvvisamente una favola che meraviglia e gesù si inventava le parabole improvvisava le parabole guardava le persone e quelle persone gli suscitavano un sentimento e questo sentimento si trasformava in una storia volete ascoltare questa cosa matteo capitolo 7 del 7 o 9 sentite la forza dell'analogia l'analogia così in alto così in basso sentito dice chi tra di voi al figlio che gli chiede un pane gli darà una pietra cosa chi tra di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra o se gli chiede un pesce darà una serpe se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli quanto più il padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano questa frase è molto più importante di quello che voi potreste pensare questa frase è un capolavoro ed è la forza dell'analogia cosa vuol dire questa frase vuol dire che non esiste niente in questo universo che non abbia un rapporto con il tutto con il tutto ogni cosa che accade in un punto dell'universo ha il suo corrispettivo in tutto l'universo è così l'analogia è una forza così in alto così in basso aspetta che ve l'avevo scritta in latino dopo che ci lasciamo ve la leggo in latino ma questa frase molto semplice ma se tu che sei il cattivo che sei una testa di rapa al tuo bambino che ti chiede un pane non gli amica di dare una pietra questa cosa dite voi ho capito e allora allora per l'analogia perché non esiste niente che tu fai che non abbia un corrispettivo nel mondo spirituale è una realtà questa è una verità non è un'opinione è una verità così il padre vostro che è nei cieli vi darà cose buone a quelli che gli le domande anche se voi siete delle teste di cavolo la vedete la forza dell'analogia insomma mi piace tanto vediamo se riesco a trovare in ero scritto una frase in latino che la devo leggere eccola qua allora finiamo la lezione su questa frase in latino sentite che bella detta in latino che sono si studia più io ho studiato in latino l'hanno eliminato appena ho finito la scuola l'hanno eliminato fatto in tempo a studiare in latino quod est inferius est sicut quod est superius e quod est superius est sicut quod est inferiore ad perpetranda miracula ad perpetranda miracula rai spunius vabbè ci capita niente adesso va la vediamo è comunque una frase molto molto famosa quod est inferius ciò che è inferiore è come quello che è superiore e ciò che è superiore è come es sicut quod est inferiore E' come ciò che è inferiore, così in alto, così in basso, così in basso, così in alto, vedete, e questi non sono mondi diversi, ma sono continuamente il rapporto tra di loro, ad perpetranda miracula rei unus, per fare in modo che il miracolo delle cose che si allineano, che diventano uni, diventi il mondo reale. Non esiste niente dentro di te che non sia da qualche parte un universo, c'è un rapporto tra te, i pianeti, i tarocchi, il Vangelo, gli alberi, le foglie, le stelle. Bene ragazzi, grazie a tutti per questa domenica insieme, e buona settimana, mi raccomando, fate i bravi, niente commenti, almeno per una settimana, niente commenti, rilassamento interiore, e silenzio, silenzio dentro, silenzio. Grazie. Grazie. Grazie.